Il risultato non è quello che speravamo, fortunatamente abbiamo un'altra partita tra un mesetto molto importante. Quindi non finiamo la stagione così, speriamo meglio. Niente, adesso tornare in palestra a lavorare ancora di più per essere pronti per quella finale. È stata un'esperienza utile e magari te la porterai dietro, te la porterai dietro di stare in questo momento. Ma sì, sicuramente tutta questa stagione ci aiuterà ad arrivare pronti per quella partita lì che è fondamentale. Ovviamente vogliamo vincere, non lo nascondiamo. Abbiamo un mese adesso per prepararci, pensare solo a quello. E niente, lavorare in palestra ancora di più di quanto abbiamo fatto adesso.